I carabinieri della compagnia di Misilmeri, centro in provincia di Palermo, hanno effettuato perquisizioni nelle abitazioni degli indagati e hanno trovato un arsenale composto a due fucili, cinque pistole, un silenziatore e 300 munizioni di vario calibro. Le armi sono state sequestrate e sono state inviate alla RIS dei carabinieri di Messina per verificare se in passato siano state impiegate per la commissione di delitti. I militari hanno arrestato un uomo di 44 anni e due donne di 42 e di 61 anni, tutti accusati di detenzione abusiva di armi e munizionamento clandestini. Gli arresti sono stati convalidati dal GIP del Tribunale di Termini Merese che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.